Perché effettivamente anch'io sono un appassionato di calcio. Mi diverte vedere i calciatori giocare, ma mi diverte ancora di più sentirli parlare. Alcuni mi fanno proprio ridere. Per esempio Buffon. Buffon, già il nome è tutto un programma. Quando parla Buffon, sapete, è stato il portiere della Nazionale per tanti anni, anche capitano. Quando parla Buffon sembra che si è appena svegliato e ha appena finito di fare colazione bevendosi una bottiglia di grappa. Ma sì, dai. Penso che i tifosi debbano essere contenti del risultato e che vedano il bicchiere mezzo pieno, che poi ci penso io a svuotarlo. Anche tra gli allenatori il modo di parlare è un po' ridicolo a volte. Penso al CT della Nazionale che ha vinto il Mondiale nel 2006, proprio con Buffon, Lippi. Quando parla pure lui sembra che ha appena finito di mangiare e gli è rimasto qualcosa tra i denti. Ma il calcio è semplice. Quello che conta è vincere. E per vincere non occorre comprare gli arbitri. Basta prenderli in affitto. Poi c'è un altro allenatore che è sempre un po' cicciottello. Lui sta a dieta però non riesce evidentemente a seguirla fino in fondo. L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, detto anche Carlo Magno. Penso che non è assolutamente vero che penso solo a mangiare. Io penso soprattutto al Napoli. Per vincere dovremmo comprare un giocatore che ha giocato nell'Udinese. Lasagna. Da metterlo in campo? No. Da metterlo al forno. Insomma, ci sono vari personaggi, vari allenatori in particolare. C'è quello ombroso, Spalletti, no? Spalletti, poi c'è certe Spalletti, mette paura. Altro che Spalletti. Lui è sempre arrabbiato, sempre un po'... E' anche un po' filosofico quando parla. Ma la squadra deve giocare bene. Con i giusti comportamenti. In quelle che sono le varie situazioni di gioco. Perché poi se si gioca male c'è poco da fare. Non si va da nessuna parte. Se si vuol vincere bisogna stare uniti. E' quando si sta uniti che è più facile metterlo dentro. Il pallone in rete. E c'è quello più sorridente. Vede tutto in positivo, no? Ha allenato e ha vinto in Inghilterra. E' stato anche allenatore della Roma recentemente. Claudio Ranieri. Ma ai miei giocatori dico. Dobbiamo essere positivi. E poi quello che viene, viene. Dobbiamo cercare di guardare sempre col sorriso. Con loro un ottimo rapporto. Ma non mi piace che mi diano del tu. Glielo dico sempre. Diamoci dell'Ei. Anzi, dell'Eister. Ho fatto la battura. Ho fatto una delle battute queste. Talmente positivo lui. E poi c'è un'altra coppia di allenatori che sono uno, la luce, uno e il buio. Nel senso che c'è un allenatore che non allena più da tanti anni, però ha vinto tanto. E' stato anche CT della Nazionale. a Rigo Sacchi. Beh, l'ho detto tante volte. Io con il calcio ho tenuto molto. Mi sarebbe piaciuto vincere con la Nazionale italiana. Oggi, se potessi allenare la Nazionale, forse qualche possibilità in più di vincere ce l'avrei con Chiesa. Avrei molte probabilità per vincere con Chiesa. Quante? L'otto per mille. Invece, un allenatore che non ha vinto proprio mai. Zeeman. Ho detto tante volte. Per me non è importante il risultato positivo, ma solo se il risultato positivo ha il doping. Non mi piace vincere con il doping, ma anche con le medicine. Non sono i farmaci a far correre più veloci, a parte la purga che fa correre subito in bagno. Forse per questo hanno detto che sono un allenatore. Come allenatore sono un cesso. E forse hanno ragione a dire che sono un cesso. Alla fine vengo sempre scaricato.